E' stato così coinvolgente l'attore Sergio Meogrossi, alias il sindaco Ezechia di Castel Romito, da voler essere presente proprio qui nella città di Castel di Sangro, all'interno del chiostro del convento della Maddalena, per ammirare effettivamente De Visu, quello che sono le peculiarità e le meraviglie di questo splendido luogo, anche perché tanto è stato avvincente, avvolgente il suo personaggio che la città di Castel di Sangro ha risposto in modo veramente importante all'interno dei cinema, registrando ai botteghini degli incassi veramente importanti. Oggi qui all'interno del chiostro del convento della Maddalena, in compagnia del direttore Mario Reinaldi, il sindaco Ezechia, vero al secolo Sergio Meogrossi, benvenuto qui a Castel di Sangro e come ha trovato questa splendida città? La città la devo ancora un po' visitare, però ho visto questo museo e questa struttura qui che è veramente un incanto. Sono rimasto colpito da come è tenuto il museo, a parte l'oggettistica, diciamo, lo spessore storico-culturale, ma è tenuto benissimo. Io credo che questo sia un gioiellino non solo di Castel di Sangro, ma di tutta l'Abruzzo. Parliamo del film. Abbiamo detto che Castel di Sangro è riuscito ad incassare un record veramente importante, tanto è vero che il sindaco ha ricevuto dalla Medusa dei dati relativi proprio all'affluenza e Castel di Sangro sembrerebbe essere record di incassi. Forse perché il film è grazioso. Io faccio un piccolo ruolo. Riccardo Milani, il regista, mi ha detto di fargli questo piccolo ruolo e l'ho fatto con grande passione. Il film piace, piace per la sua grazia, per la sua tematica, non solo qui in Abruzzo, ma io ho amici un po' sparsi in tutta Italia e piace tanto. Non riesco a capire il perché. Un po' la bravura, la tematica del film, ma soprattutto anche dai nostri posti, da questa grazia che è la natura che abbiamo. Parliamo del suo personaggio che ha effettivamente svolto un ruolo completamente diverso, quindi diciamo un antitetico sindaco di Castel di Sangro. Io interpreto un mascalzone che va un pochino in contrapposizione a quella che è la mia natura. Io non è che sono un francescano, però credo di comportarmi bene nella vita. Qui invece è veramente un farabutto. A Milani serviva un attore di energia e è un mascalzone in tutti i sensi. Vuole chiudere una scuola elementare per fare un centro commerciale. Non c'è cosa più orrenda di questa, insomma. Quali saranno i suoi prossimi lavori, soprattutto qui a Castel di Sangro? C'è qualcosa che bolle in pentola? Quando mi ha telefonato la prima volta il sindaco, Angelo Caruso, si è complimentato e io modestamente ho detto sì, ho rappresentato un personaggio piccolo, ma non è quello la mia, diciamo, professione. La mia vera professione è il teatro, anzi vorrei parlarle di un mio progetto e lui mi ha anticipato e mi ha detto è già fatto. Ma come è già fatto? Io ancora devo esporre. Lui mi ha detto è già fatto. Infatti vorrei rappresentarlo qui in questo luogo meraviglioso, in questo chiostro stupendo in agosto. Speriamo di coinvolgere la gente. Faccio uno spettacolo dal sapore popolare, sono tre monologhi e in più c'è una rivisitazione un po' della poesia del Novecento. Metterò anche qualcosa di mio, di personale in vernacolo, in dialetto. Spero di fare cosa gradita. E allora segnate direttamente sul calendario il mese di agosto perché il nostro carissimo attore Sergio Meogrossi sarà qui all'interno del Convento della Maddalena per il suo spettacolo teatrale.